Il titolo di quest'opera appunto è onnipervasivo ed è proprio questa presenza quasi ossessionante di questo magma che ingloba un po' tutto e come dire, rende tutto abbastanza difficile nel senso della comprensione pura. Vediamo degli elementi luminosi all'interno e poi dentro della natura che emerge. Ho scelto il posto proprio perché era caratterizzato da questa cornice che sovrasta appunto lo spazio di Palazzo Pinto e mi sembrava appunto quella più idonea. Ho anche l'idea di questa fioriera che doveva a mio avviso essere inglobata all'interno di questo spazio lattiginoso come spesso viene definito nel mio lavoro. Ho pensato forse questo poteva essere un elemento che diventasse un po' un fulcro, un punto d'attenzione all'interno dell'architettura dello spazio Palazzo Pinto. La percezione tende un po' a spiazzare l'osservatore, non c'è mai una vera messa a fuoco definita. Questo è un gioco sempre sulla dimensione della memoria, del ricordo, cioè guardando quest'opera c'è sempre uno smarrimento. Ho voluto ricreare poi una dimensione del tempo, cioè nel tempo dei nostri ricordi è compreso tutto, come dire, una parte luminosa che è quella della nostra mente e una parte che è quella della natura che è all'interno ed emerge proprio come un fatto in alcuni punti evidente, insomma, quindi sempre riferito alla memoria e al ricordo.